Anche quest'oggi la 24 ore di nuoto presso la piscina comunale, quindi si rinnova quella che è una lunga tradizione proprio della piscina del nuoto, ne parliamo con Silvano Brandi e poi vediamo tutti gli altri. Allora Silvano come sta andando? Sta andando normalmente, in effetti dopo le feste è sempre difficile portare gente in acqua, però insomma nel pomeriggio, nella prima parte della serata sicuramente ci sarà molta gente. Poi nella nottata invece soffriremo, allora ci saranno i nostri ragazzi che dovranno sopperire un po' a tutti quanti gli altri fino alle 7, alle 8 di mattina e poi alle 9 chiuderemo la 24 ore. È una lunga tradizione. È una lunga tradizione, parte dal 1982, la prima volta la facciamo alla piscina Norris a Carta Romana. Poi da quel momento là è partì l'idea della piscina che venne realizzata poi 5 anni dopo nell'87 e poi abbiamo sempre cercato di mantenere questa tradizione che è una bella cosa insomma. Sindaco Ferrandino, un commento? È una bella iniziativa che si rinnova anno dopo anno e che dà una veste a questa struttura che oltre ad essere un luogo dove ci si allena e si cerca di migliorare le prestazioni sportive dei giovani nuotatori ischitani ma che diventa anche momento di aggregazione sociale. È proprio la 24 ore, è proprio la sintesi di questo abbinamento, di questi due elementi che a noi fa molto piacere perché significa che una struttura comunale, una struttura collettiva viene valorizzata in maniera piena e in maniera soddisfacente per tutti. Rosa Sant'Angelo, a te chiedo come sta andando il nuoto in generale in questo periodo? Beh diciamo che il momento è difficile, poi abbiamo aperto un po' il ritardo però stiamo difendendoci bene, solo che oggi vorrei che venissero un po' tutti per vedere com'è bella questa manifestazione e quanto dà a ognuno di loro quindi vi aspettiamo numerosi tutti però, dai piccoli ai grandi, fino a domani mattina stasera è una grande festa, va bene? Accorrete? Ottorino Matera È un modo un po' inconsueto anche di passare il Natale però, considerato che la stagione balneare è finita da poco, è un modo anche per riprendere contatto con l'acqua normalmente loro lo abbinano sempre in un momento anche di solidarietà e sicuramente anche quest'anno sapranno coinvolgere ragazzi, genitori e un po' la nostra comunità sportiva attorno anche al tema del Natale e di chi magari soffre. Questa struttura che è molto importante per l'isola e va sempre tenuta bene? Assolutamente, penso che siamo partiti con il piede giusto e ogni anno cerchiamo di metterci qualcosa in più provando a migliorarla in modo tale da non lasciare strascichi e tenerla bella pronta possibilmente, dicevo anche con il sindaco, di magari rimanerla a lungo anche nel periodo estivo, aperta perché potrebbe essere un modo per sostenerla meglio. Grazie.